Montesilvano sceglie l'integrazione, a fronte di polemiche e malcontento sulla questione immigrati arriva la notizia della sottoscrizione di un'intesa tra prefettura e comune con l'obiettivo di rendere i migranti accolti nelle strutture alberghiere una risorsa per il territorio con lavori di pubblica utilità. Abbiamo stipulato ieri questo accordo con la prefettura di Pescara per l'utilizzo dei migranti che oggi sono ospitati negli hotel di Montesilvano per lavori socialmente utili. Tutti sanno, i cittadini sanno che lo Stato italiano riconosce 40 euro come spese per ciascuno di questi rifugiati sul territorio italiano in attesa dello status di rifugiato e giusto pure che anche loro diano il proprio contributo nei confronti di uno Stato che comunque gli sta accogliendo, gli sta dando delle chance. Quali saranno i lavori e le mansioni che verranno ricoperte dagli immigrati? Cominceremo con la pulizia del verde, lo spazzamento delle strade ma anche la pulizia della riserva di Santa Filomena per questo intervento coinvolgeremo anche il corpo forestale dello Stato che oggi ha la tutela di tutta l'aria protetta.